Siamo con l'assessore Giuseppina Troccoli di Rivello perché nei giorni scorsi a Rivello si è svolta un incontro importante, un incontro anche operativo, perché l'obiettivo di questa cittadina della Valle del Noce è di gemellarsi con una realtà spagnola che ha un punto di contatto con Rivello. È così, assessore? E sicuramente. Buongiorno innanzitutto, benvenuto a Rivello che è un piacere sempre averti qua insieme a noi. Sicuramente il legame che lega Rivello con la cittadina spagnola di Elin è un legame veramente forte. Parte dal presupposto che a Elin addirittura hanno dedicato un giardino ai calderai di Rivello e si ricollega quindi all'attività della produzione e della lavorazione del rame che avevamo fortemente qua a Rivello presente diciamo dal 1600, 1700, 1800 e così via e che ancora oggi, mi preme sottolinearlo, rappresenta per Rivello un motivo di forte orgoglio che si concretizza anche nell'attività di Marinilda Martino che rappresenta per Rivello un bel esempio di giovane donna impegnata in quella che è una tradizione tipica del nostro paese ma vissuta veramente all'insegna dell'innovazione e dell'originalità. Anche questo è un motivo che vorremmo trasferire a Elin, vorremmo sottolineare effettivamente come a Rivello seppure in forma minore, visto un po' lo spopolamento che comunque nel territorio, come in tutti i centri della nostra realtà è avvenuto negli ultimi anni, l'arte del rame comunque è motivo di orgoglio e è una tradizione che va ulteriormente rafforzata e fortificata. Ecco Assessore, vogliamo raccontare quello che c'è stato nei giorni scorsi nella sala consigliare, una riunione pubblica l'altra riunione alla quale ha partecipato un ex sindaco della Valle del Noce, un già sindaco della Valle del Noce e l'ingegnere Tonino Filardi. L'assemblea in realtà si è tenuta ieri pomeriggio, quindi il sabato 16 giugno e ha visto la presenza, come dicevi, oltre che di un nutrito numero di rivellesi, la presenza di Tonino Filardi. La presenza non è casuale perché proprio si è sottolineato che nel momento in cui i rivellesi andavano e portavano il rame nelle varie zone, anche dell'America meridionale, oltre che della Spagna e di altre zone dell'Italia, di Imbuglia. Abbiamo anche un altro legame con la città di Terlizzi, accomunata anche dalla presenza del rame e così via. Diciamo che Nemoli in quel periodo era parte integrante di Rivello e la sede proprio della produzione del rame era in una contrada ramera che ancora oggi porta questo nome e che è nel territorio di Nemoli. Ecco perché nell'ambito dell'assemblea è emerso questo bisogno forte di coinvolgere anche Nemoli in questo percorso di collegamento con la città di Ellin. Ci sembra di aver capito che a settembre dopo l'estate vi sarà una visita di una delegazione guidata dal sindaco di Rivello Manfredelli proprio in questa cittadina della Spagna per ulteriormente dare forza ad un gemellaggio che già in parte è stato espletato con questo partner europeo-spagnolo-iberico. Sì, diciamo che per quanto riguarda settembre ci stiamo organizzando, infatti ieri sera c'era un po' il comitato promotore che ha promosso anche l'assemblea. Di questo comitato promotore parte integrante e fondamentale rappresentata dall'associazione La Biblioteca Rivellese che è una delle associazioni che da un punto di vista culturale si impegna e lavora veramente molto nella direzione della valorizzazione del proprio paese oltre alla Biblioteca Rivellese e quindi al comune che in realtà si è inserito in quanto, diciamo, elemento amministrativo che ha sposato e ha condiviso pienamente questo percorso c'è anche l'Auser che è un'altra delle associazioni che nel nostro territorio svolgono un ruolo significativo questo come comitato promotore che auspichiamo si allarghi sempre di più e coinvolga un pochino tutte le forze e le vivacità che nel nostro paese comunque esistono. Formalmente l'IN già precedentemente ha siglato l'atto di gemellaggio con la città di Rivello e ora noi faremo l'atto di gemellaggio nel prossimo Consiglio Comunale avremo questo Consiglio Comunale nella prossima settimana e quindi faremo il nostro passaggio, diciamo, amministrativo, formale a settembre il sindaco andrà insieme a un gruppo, a una delegazione di Rivellesi per poter poi siglare anche su l'IN il gemellaggio come riferimento mi piace sottolinearlo perché è una presenza veramente molto significativa per quanto riguarda l'IN abbiamo un riferimento che non è solo amministrativo ma è un ingegnere meccanico della Spagna praticamente Quanco che è diventato parte integrante di noi perché praticamente è lui che all'origine si è mosso per volere fortemente questo gemellaggio abbiamo avuto varie videoconferenze e il 20 pomeriggio dalla sala consigliare del Comune di Rivello il sindaco sarà in diretto contatto col sindaco di L'IN questo il 20 giugno il 20 giugno dopo le otto e mezza, sì perfetto Assessore, grazie, è una bella iniziativa tra l'altro mette insieme un po' la cultura un po' anche l'amicizia tra i paesi mediterranei e poi valorizza una tradizione legata all'artigianato e sappiamo Rivello come insomma ha raccontato una storia notevole sull'artigianato stiamo parlando di un aspetto però sappiamo la lavorazione del cuoio sappiamo quante botteghe ahimè a causa dello spopolamento alcune varie sono chiuse ma davvero Rivello avrebbe tanto da raccontare sull'artigianato sull'alto artigianato anche a livello di manualità sì, concordo pienamente in realtà la volontà l'intenzione il nostro percorso ci vorrebbe riportare un pochino per quanto riguarda il discorso anche turistico a quello che era Rivello un tempo è un'ideale abbastanza alto è impegnativo però effettivamente se si riescono a mettere insieme tutte queste belle potenzialità ricordavi la lavorazione del cuoio anche la lavorazione del cuoio è un fiore all'occhiello per quanto riguarda il nostro paese veramente un'attività che è stata imbiandata di recente ma che può darci tanto parlavi giustamente di alto artigianato che si affianca anche dalle numerose esperienze che forse in forma anche hobbistica se vogliamo ma che stanno nascendo in questo nostro territorio abbiamo molte anche mi piace sottolinearlo molte giovani donne che spontaneamente si stanno organizzando ma si stanno attrezzando anche a livelli impegnativi con documentazione con ricerca sul territorio ricerca e contatti anche con realtà di altri paesi anche londani da noi sfruttando la tradizione quindi i percorsi che già erano presenti nel nostro territorio ma nell'ottica di un ampliamento della visione una visione che ci porta a essere un piccolo paese della Basilicata sicuramente proiettato nell'Europa crediamo che il nostro paese possa attrarre e possa offrire veramente molto perché siamo consapevoli di quanto abbiamo un altro aspetto colgo l'occasione anche se parliamo di artigianato mi sposto anche un attimino sul piano artistico-culturale anche su questo rivella veramente molto molto da offrire e stiamo cercando di valorizzare anche i percorsi che permettano la fruizione completa del nostro patrimonio una fruizione che in termini di esperienze diverse è veramente veramente significativa perfetto grazie grazie a te grazie sempre grazie a te